Musica Studia in Dipartimento di Ingegneria Industrale e dell'Informazione Abbiamo un servizio di tutoraggio per massimizzare il percorso formativo 20 laboratori ingegneristici in cui applicare le nozioni apprese in aula Strutture moderne e semplici da raggiungere A tre anni dalla magistrale, più dell'80% degli studenti laureati nel nostro dipartimento ha un'occupazione stabile Dall'Università Bambitelli puoi scegliere percorsi studio vincenti nel tuo futuro